Gentili telespettatori, buona giornata. E trovo un articolo dove si parla di immigrazione e viene fuori una chat. Dice l'ora è suonata. L'ora è suonata. Quale ora? Quale ora è suonata? Pertanto ilgiornale.it scrive un articolo che poi viene ripreso da Libero Quotidiano, poi lo leggo io e lo riporto a voi. Cita le chat di alcuni trafficanti, quelli che fanno dalla Libia all'Italia, dalla Tunisia all'Italia. Scrive che gli scafisti manderanno in acqua due diversi barchini, quello previsto sette giorni fa e già uno in programma per questa settimana. Il costo 2000 dinari tunisini attesta circa 600 euro, quindi qui abbiamo già dei prezzi più bassi, saranno degli sconti di stagione. Partenza prevista mercoledì notte, perché pare che ai migranti vengano offerti sempre a pagamento anche giubbotti di salvataggio e le camere d'aria. Rispettivamente a 120 il giubbotto di salvataggio e 35 dinari tunisini l'uno, circa 35 euro il giubbotto di salvataggio e 10 euro delle camere d'aria. Quindi la camere d'aria probabilmente è tipo la camera d'aria della ruota di una macchina, tipo salvagente una camera d'aria. Oppure il giubbotto, il classico giubbotto salvataggio a 35 euro. Quindi 600 più 120, quindi se vuoi il viaggio con il giubbotto di salvataggio costa 720 euro. Non è che se vuoi, se hai i soldi, perché il giubbotto di salvataggio lo deve prendere anche chi sa nuotare, perché se sei in mezzo al mare non so quanto resisti. Oppure 35, se proprio non ce li hai, con 35 prendi una specie di salvagente chiamato camera d'aria. Mercoledì notte sembra essere il giorno eletto per la partenza da molti trafficanti e il motivo qual è, si legge sul giornale riportato da Libero Quotidiano. Il tempo è favorevole da giovedì a domenica, sia a Sfax che a Lampedusa. L'ora è suonata, questo è quanto avrebbe scritto un trafficante in un'altra conversazione. Il giornale che è riuscito a leggere queste chat dice Ci si rende conto dell'esistenza di una sorta di concorrenza tra organizzatori, ognuno dei quali, come se fosse un libero mercato, cerca di vendere la sua proposta rendendola più allettante agli occhi dei migranti. C'è chi punta sulla sicurezza e chi invece sull'aspetto economico. Quindi quello che ti dice il mio viaggio costa di più, ma ci sono certe sicurezze, quell'altro che dice il mio viaggio economico. È un po' come quando si vende un televisore, ti dice questo televisore 80 pollici costa 100 euro. Dicevo, quella marca non l'ho mai sentita. Sì, ma costa poco. Ma quanto durerà quella marca? Magari neanche si accende. Ecco, quindi c'è chi punta sul prezzo e c'è chi punta invece sulla qualità. Il mio televisore costa di più, ma guarda che è di marca riconosciuta. Ecco, non ti lascia per strada appena comprato. Bene. Pare inoltre che le iscrizioni e i convogli restino aperte fino all'ultimo momento. Quindi ti puoi aggiungere anche all'ultimo, mentre la posizione esatta della partenza non viene quasi mai comunicata. Si guarda la posizione dei poliziotti, poi scegliamo il miglior punto di lancio, avrebbe detto uno di loro al giornale. Quindi la partenza si chiama il punto di lancio, e così vi ho raccontato anche il fatto dei prezzi. Poi ci sono anche, in questo c'è anche poi l'organizzazione del viaggio prima, della traversata. C'è qualcuno che scrive, non c'è da camminare, perché c'è un primo autobus, o comunque un primo trasporto, poi quando si ferma il primo si segue, si prosegue con un altro mezzo, quindi non c'è da camminare. Ecco, c'è anche il trafficante che dice, attenzione, non c'è da camminare, non vi fate problemi, non c'è da camminare, però c'è il prezzo del primo trasporto e c'è da aggiungere il prezzo del secondo trasporto. Quindi c'è il costo del primo mezzo di trasporto terrestre, il secondo mezzo di trasporto, poi ci sono i 600 euro se vi va bene, e poi c'è il giubbotto di salvataggio 120 euro, o la camera d'aria, quindi il salvagente, a 35 euro. Ecco, insomma, c'è proprio tutta una sorta di organizzazione. Organizzazione, poi immaginate che senza questi trafficanti queste partenze sarebbero difficili, perché i migranti dovrebbero da soli trovare, comprare una barca e metterci la benzina o il carburante, poi sapere come si viaggia, dove si va, ci vuole una bussola, come funziona. Per esempio, voi sapreste come partire da una spiaggia e raggiungere un altro stato, mi dicono più o meno, vado dritto, no, non lo so, giro un po' più a destra, insomma, come affrontare le onde, come affrontare l'emergenza. Ecco, diciamo che tanto fanno le organizzazioni di questi trafficanti. Poi ci sono anche quelli che si mettono insieme a un gruppo, comprano una barca mezza distrutta e da soli provano, ci sono anche delle partenze autonome. Poi abbiamo visto che ci sono degli scafisti che sono in Italia, partono dai porti del sud Italia, vanno in Tunisia, che è il viaggio più corto, vanno avanti e indietro. Quindi proprio, questi lo fanno proprio come servizio, non ci mettono uno dei migranti a guidare il motoscafo, ma proprio fanno il servizio andate e ritorno, ecco. Con motoscafi veloci, meno persone, motoscafi veloci, costo più alto, però meno tempo di traversata e con una barca che arriva a destinazione, perché è un motoscafo che non ha problemi strutturali. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. Poi ci sono anche altri due canali, In Cucina con Carla e Tutorial Uncinetto con Carla, Carla sempre con la K, se no poi non trovate il canale, i due canali sono di Mia Moglie. Arrivederci e grazie. Grazie.